Hazel La bussola interna di Hazel girava all'impazzata. Ripensò a quando era molto piccola, a New Orleans, alla fine degli anni trenta, e sua madre l'aveva portata dal dentista per l'estrazione di un dente cariato. Era stata la prima e ultima volta che le avevano somministrato l'etere. Il dentista aveva promesso che serviva solo a rilassarla, ma Hazel aveva avuto la sensazione di volare via dal corpo senza controllo, ed era andata nel panico. Quando l'etere aveva esaurito l'effetto, lei aveva avuto la nausea per tre giorni. Lì, davanti alle porte della morte, le sembrò di aver inalato una dose massiccia di etere. Una parte di lei sapeva di trovarsi ancora nella grotta, Pasifa era a pochi metri di distanza da loro, Clizio tendeva in silenzio, ma strati e strati di foschia l'avviluppavano, distorcendole il senso della realtà. Hazel fece un passo avanti, e andò a sbattere contro una parete che non avrebbe dovuto esserci. Leo premette le mani contro la pietra. «Ma che cavolo? Dove siamo?» Un corridoio si stendeva alla loro destra e alla loro sinistra. Delle torce brillavano fiocamente nei candelabri a muro. L'aria odorava di muffa, come in un antico sepolcro. Sulla spalla di Hazel, Gale squittiva stizzita, conficcandole gli artigli nella clavicola. «Sì, lo so!» sussurrò Hazel alla donnola. «È un'illusione!» Leo batte le mani sulla parete. «Piuttosto solida come illusione!» Pasifa erise. «È un'illusione, Hazel Levec? O qualcosa di più?» «Non vedi cos'ho creato?» La sua voce sembrava accusa e distante. Hazel era talmente turbata da reggersi in piedi a fatica. Figuriamoci se riusciva a ragionare. Tentò di amplificare i sensi, di vedere attraverso la foschia e trovare di nuovo la grotta. Ma l'unica cosa che percepì furono gallerie che si aprivano in una decina di direzioni diverse e andavano dappertutto tranne che in avanti. Le balenarono per la mente pensieri sparsi, come pepite d'oro che emergevano in superficie. «Dedalo, il minotauro rinchiuso! Morire lentamente nel mio nuovo regno!» «Il labirinto!» esclamò Hazel. «Sta ricostruendo il labirinto!» «E ora?» Leo aveva perlustrato le pareti con un martelletto, ma si girò e la guardò corrugando la fronte. Credevo che il labirinto fosse crollato durante la battaglia al campo mezzosangue. Cioè, era collegato alla forza vitale di Dedalo, roba del genere. E quando lui è morto, Pasifa eschioccò la lingua in disapprovazione. «Ah, ma io sono ancora viva! Attribuisce a Dedalo tutti i segreti del labirinto? Sono stata io a infondere una vita magica al suo labirinto. Dedalo non valeva niente in confronto a me! La maga immortale, figlia di Elio, sorella di Circe! Adesso il labirinto sarà il mio regno! È un'illusione!» insistette Hazel. «Dobbiamo solo spezzarla!» Ma in quello stesso istante le pareti diventarono più solide, l'odore di muffa più intenso. «Troppo tardi! Troppo tardi!» Cantileno Pasifae. «Il labirinto è già sveglio! Si diffonderà di nuovo sotto la crosta terrestre, mentre il mondo dei mortali verrà raso al suolo. Voi semidei, voi eroi, vagherete per i suoi corridoi, morendo lentamente di sete, di paura e di tristezza. O forse, se sarò clemente! Morirete rapidamente, fratroci sofferenze!» Hazel vide aprirsi buchi nel pavimento. Afferrò Leo e lo spinse da una parte, mentre una fila di arpioni schizzarono verso l'alto, conficcandosi nel soffitto. «Corri!» gridò. La risata di Pasifae riecheggiò lungo il corridoio. «Dove vai, giovane maga? Fuggi da un'illusione!» La semidea non rispose. Era troppo impegnata a sopravvivere. Dietro di loro, una fila di arpioni dietro l'altra schizzò verso il soffitto con un rumore sordo e persistente. «Pank! Pank! Pank!» Hazel trascinò Leo in un corridoio laterale, balzò sopra un filo collegato a una trappola e si fermò barcollando, davanti a un baratro largo sei metri. «Quanto è profondo!» Leo aveva il fiato grosso. Una gamba dei pantaloni era strappata nel punto in cui lo aveva sfiorato uno degli arpioni. Hazel percepì che il baratro era profondo almeno quindici metri, con una pozza di veleno sul fondo, ma poteva fidarsi dei propri sensi. Che Pasifae avesse creato o meno un nuovo labirinto, lei era convinta che si trovassero sempre nella stessa grotta, costretti a correre avanti e indietro senza meta, mentre la maga Eclizio li guardavano divertiti. Illusione o realtà che fosse, se Hazel non avesse capito come uscire dal labirinto, le trappole li avrebbero uccisi. «Otto minuti!» disse la voce di Pasifae. «Mi piacerebbe vedervi sopravvivere, sono sincera! Dimostrereste di essere degni sacrifici per Gea ad Atene? Ma in questo caso ovviamente non ci servirebbero i vostri amici nell'ascensore!» Hazel batteva forte il cuore. Si girò verso la parete a sinistra. Nonostante ciò che le suggerivano i sensi, quella doveva essere la direzione da prendere per le porte. Pasifae doveva trovarsi proprio davanti a lei. Hazel avrebbe voluto sfondare il muro e strangolare la maga. In otto minuti doveva arrivare alle porte della morte e far uscire Annabeth e Percy. Ma Pasifae era una maga immortale con migliaia di anni di esperienza negli incantesimi. Non poteva essere sconfitta solo con la forza di volontà. Hazel era riuscita a ingannare Shirone mostrandogli quello che si aspettava di vedere. Doveva scoprire qual era il più grande desiderio di Pasifae. «Sette minuti!» annunciò la maga. «Ah, se avessimo più tempo, li farei subire così tante umiliazioni!» «Ecco la soluzione!» si disse Hazel. Doveva accettare la sfida. Doveva rendere il labirinto più pericoloso, più spettacolare. Doveva fare in modo che Pasifae si concentrasse sulle trappole e non sulla direzione in cui il labirinto conduceva. «Leo, adesso saltiamo! Ma non è lontano come sembra! Via!» Hazel gli afferrò una mano e si lanciarono dall'altra parte del baratro. Una volta atterrati si voltò, ma non vide nessun baratro. Solo una crepa di una decina di centimetri sul pavimento. «Dai!» lo spronò. Si misero a correre, mentre Pasifae continuava a parlare con voce monotona. «Oh, cara, no! Non sopravvivrai mai in questo modo!» «Sei minuti!» Sul soffitto sopra di loro si formò una crepa. Gale squittì impaurita, ma Hazel immaginò una nuova galleria che portava a sinistra, una galleria ancora più pericolosa che andava nella direzione sbagliata. La foschia si piegò al suo comando. La galleria comparve e loro si spostarono in fretta di lato. Pasifae sospirò, delusa. «Non te la cavi molto bene, mia cara!» Ma Hazel sentì accendersi un barlume di speranza. Aveva creato una galleria. Aveva provocato una piccola falla nella struttura magica del labirinto. Il pavimento crollò sotto di loro. Hazel saltò di lato, trascinandosi dietro Leo. Immaginò un'altra galleria che li riportava nella direzione da dove erano venuti, ma piena di gas velenoso. Il labirinto l'accontentò. «Leo, trattieni il respiro!» lo avvisò. Si fiondarono in mezzo alla nebbia tossica. Hazel ebbe la sensazione di lavarsi gli occhi con la salsa piccante, ma continuò a correre. «Cinque minuti!» disse Pasifae. «Aimè! Quanto vorrei vedervi soffrire ancora?» Si lanciarono in un corridoio dove c'era aria fresca. Leo tossì. «Quanto vorrei che se ne stesse un po' zitta!» Si abbassarono per evitare un cavo di bronzo che minacciava di decapitarli. Hazel immaginò che la galleria curvasse all'indietro verso Pasifa e appena un po'. La foschia obbedì al suo volere. Le pareti della galleria cominciarono a restringersi. Hazel non tentò di fermarle, anzi, le fece stringere ancora più in fretta, facendo tremare il pavimento e crepare il soffitto. Corsero a gambe levate, seguendo la curva e avvicinandosi a quello che Hazel sperava fosse il centro della sala. «Peccato!» esclamò Pasifae. «Vorrei poter uccidere voi e i vostri amici nell'ascensore!» Magea ha insistito affinché due semidei rimangano vivi fino alla Festa della Speranza, giorno in cui il vostro sangue sarà messo a frutto. «Ah beh, dovrò trovare altre vittime per il mio labirinto. Voi gli siete dimostrati due mezze cartucce!» E Hazel e Leo si fermarono di colpo. Davanti a loro si apriva un baratro talmente largo che era impossibile vedere l'altra sponda. Dall'oscurità sottostante provenivano dei sibili. Migliaia e migliaia di serpenti. Hazel fu tentata di tornare indietro, ma la galleria si stava chiudendo alle loro spalle, bloccandoli su una minuscola sporgenza. Gale camminava avanti e indietro sulle spalle della ragazza, liberando gas pestiferi per l'ansia. «Ok, ok», borbottò Leo. «Le pareti sono strutture mobili. Devono essere meccaniche. Dammi un secondo!» «No, non c'è modo di tornare indietro!» «Ma stringimi la mano!» disse Hazel. «Al tre!» «Ma tre! Che cosa?» Hazel saltò nel baratro tirandosi dietro Leo. Tentò di ignorare le sue urla e la donna la pestilenziale attaccata al collo. Fece ricorso a tutta la propria forza di volontà per reindirizzare la magia del labirinto. Pasifa erise soddisfatta, sicura che da un momento all'altro si sarebbero spiaccicati o sarebbero morti avvelenati nella fossa di serpenti. Invece Hazel immaginò uno scivolo nell'oscurità, alla loro sinistra. Roteò a mezz'aria insieme a Leo, chiombò sullo scivolo e sdrucciolò nella grotta, atterrando proprio sopra Pasifa e... «Ai!» La maga sbatte la testa contro il pavimento, mentre Leo le si sedeva sul petto. Per un attimo si ritrovarono tutti e quattro, donno la inclusa, in un mucchio in forme di arti e corpi scomposti. Hazel tentò di sguainare la spada, ma Pasifa e riuscì a liberarsi per prima. La maga indietreggiò, con l'acconciatura piegata su un lato come una torta crollata, la veste macchiata d'olio nei punti in cui aveva sfiorato la cintura degli attrezzi di Leo. «Miserabili!» gridò. Il labirinto era scomparso. A pochi metri di distanza, Clizio sorvegliava le porte della morte, dando la schiena ai ragazzi. Hazel calcolò che mancavano circa 30 secondi all'arrivo degli amici. Era esausta per aver corso nel labirinto controllando al contempo la foschia, ma doveva mettere a segno un'altra mossa. Era riuscita a mostrare a Pasifa e ciò che più desiderava. Adesso doveva mostrarle ciò che più temeva. «Devi proprio odiare i semi dèi!» disse, tentando di imitare il sorriso crudele della maga. «Ti battiamo sempre, vero?» «Ciocchezze!» ribatte Pasifa e «Vi farò pezzi vitti!» «Ti facciamo sempre mancare il terreno sotto i piedi!» la interruppe Hazel in tono compassionevole. «Tuo marito ti ha tradito?» «Teseo ha ucciso il minotauro e ha rapito tua figlia Arianna. Adesso due mezze cartucce ti hanno rivoltato contro il tuo labirinto!» «Ma sapevi che sarebbe andata così, no?» «Tu crolli sempre, alla fine!» «Io sono immortale!» disse Pasifa e arretrò di un passo toccandosi la collana. «Non potete reggere il confronto con me!» «Tu non ti reggi neanche in piedi!» ribatte Hazel. «Guarda!» e indicò il pavimento. Una botola si aprì sotto la maga e urlando cadde in un baratro senza fondo. Un baratro inesistente. Il lastricato si solidificò. La maga era scomparsa. Leo guardò Hazel allibito. «Come hai?» In quell'istante l'ascensore scampanellò. Invece di premere il pulsante con la freccia verso l'alto, Clizio si allontanò dai comandi, tenendo i loro amici intrappolati. «Leo!» gridò Hazel. Erano a una decina di metri di distanza, troppo lontani per raggiungere l'ascensore. Ma Leo estrasse un cacciavite e lo lanciò come un coltello. Era un tiro impossibile, ma il cacciavite volò dritto sopra Clizio e si conficcò sul pulsante. Le porte della morte si aprirono sibilando. Ondate di fumo nero si riversarono fuori e due corpi caddero sbattendo la faccia a terra. Percy e Annabeth inerti come cadaveri. Hazel si inghiozzò. «Oddei!» Si lanciarono a raggiungerli, ma Clizio sollevò una mano in un gesto inequivocabile. «Stop!» E alzò un enorme piede da rettile sopra la testa di Percy. Il manto di fumo del gigante si riversò sul pavimento, coprendo Annabeth e Percy in una pozza di nebbia scura. «Clizio, avete perso!» disse Hazel. «Lasciali andare! Altrimenti farai la fine di Pasifae!» Il gigante inclinò la testa. I suoi occhi di diamante scintillavano. Ai suoi piedi, Annabeth sussultava come per una scossa elettrica. Rotolò sulla schiena e una spirale di fumo nero le uscì dalla bocca. «Io non sono Pasifae!» Annabeth parlò con una voce che non era la sua, dal tono basso e profondo. «Non avete vinto niente!» «Smettila!» Anche da quella distanza, Hazel percepì che la forza vitale di Annabeth stava svanendo, che il polso era sempre più debole. Qualunque cosa Clizio stesse facendo, tirandole fuori le parole di bocca, la stava uccidendo. Il gigante colpì lievemente con il piede la testa di Percy, che ciondolò da un lato. «Non sono ancora morti!» Le parole di Clizio fuonarono dalla bocca di Percy. «È uno shock tremendo per il corpo mortale, immagino, tornare dal tartaro! Saranno fuori combattimento per un po'!» Poi rivolse di nuovo la propria attenzione verso Annabeth. Altro fumo sgorgò dalle sue labbra. «Li legherò e li porterò da Porfirio, ad Atene! È proprio il sacrificio che ci serve! Purtroppo, questo significa che non abbiamo più bisogno di voi!» «Ah, sì?» ringhiò Leo. «Beh, tu avrai anche il fumo, bello! Ma io ho il fuoco!» Gli si incendiarono le mani. Lanciò colonne di fuoco incandescenti contro il gigante. Però l'alone di fumo di Clizio le assorbì all'impatto. Pentacoli di caligine nera risalirono lungo le traiettorie delle fiamme, spegnendo luce e calore e avvolgendo Leo nell'oscurità. Il ragazzo cadde in ginocchio, tenendosi stretto la gola. «No!» Hazel si precipitò da lui, ma Gale cominciò a schiamazzare con insistenza sulla sua spalla. Un chiaro avvertimento. «Io non lo farei!» La voce di Clizio riecheggiò dalla bocca di Leo. «Tu non capisci, Hazel Levec! Io annullo la magia! Distruggo la voce e l'anima! Non puoi opporti a me!» Una nebbia nera si diffuse dall'altra parte della stanza, coprendo Annabeth e Percy, elevandosi a ondate verso Hazel. Il sangue, le ribolline e le orecchie. Doveva passare all'azione, ma come? Se quel fumo riusciva a mettere fuori combattimento Leo così alla svelta, che possibilità aveva lei? «Il fuoco dovrebbe essere il tuo punto debole!» disse Hazel con un filo di voce. Il gigante ridacchiò, usando le corde vocali di Annabeth. «Contavi su questo, eh? È vero che il fuoco non mi piace, ma le fiamme di Leo Valdés non sono abbastanza forti!» Alle spalle di Hazel, una voce lieve musicale disse «E che ne dici delle mie fiamme, amico mio?» Gail squittì entusiasta e saltò giù dalla spalla di Hazel, zampettando verso l'ingresso della grotta, dove c'era una donna bionda con un abito nero, intorno alla quale turbinava la foschia. Il gigante arretrò barcollando e andò a sbattere contro le porte della morte. «Tu!» disse attraverso la bocca di Percy. «Io!» confermò Ecate spalancando le braccia. Due torce fiammeggianti le apparvero nelle mani. «Non combatto a fianco di un semidio da millenni, ma Hazel Levec se n'è dimostrata degna! Che ne dici, Crizio? Giochiamo con il fuoco?» Grazie! Grazie!